Siamo al nostro approfondimento che ve lo abbiamo detto e dedicato agli imprenditori stranieri che investono nella nostra regione. Allora abbiamo invitato un ospite in studio alla quale do il benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. E grazie per aver accettato il nostro invito. Marta Vietti, Nuove Imprese, Camera di Commercio. Adesso vedremo con lei di che cosa si tratta. È un progetto che proprio aiuta gli imprenditori stranieri a costruire qualcosa nel nostro paese. Ma partiamo da qualche numero. Perché le imprese straniere in Piemonte sono in crescita e da dieci anni performano molto bene. Ci fa un profilo? Chi sono questi stranieri? Quali sono i settori? Sì, come ha detto lei, sul territorio di Torino e provincia le imprese straniere sono quasi 30 mila. Sono in forte crescita. Nel 2021 hanno registrato un tasso di crescita del 6,3%. E questa è una crescita positiva che viene segnalata da oltre dieci anni. Gli imprenditori stranieri sono mediamente più giovani di quelli italiani. Infatti l'8% ha meno di 30 anni. C'è anche una buona quota di donne titolari di posizioni imprenditoriali. Infatti il 27% delle posizioni imprenditoriali straniere è rappresentata dal genere femminile. Le principali comunità che avviano imprese in Italia sono quella rumena, seguita da quella marocchina albanese, principalmente occupate nel settore delle costruzioni. E' anche rilevante la presenza della comunità cinese, però più impegnata nel settore della ristorazione e del commercio. Anche il turismo è uno dei settori coinvolti e sono imprese che crescono anche con grande entusiasmo. Sì, sono imprese che crescono con entusiasmo, arrivano da noi, insomma, quando proponiamo i nostri servizi, ovviamente con delle difficoltà, delle difficoltà legate al fatto sia alla lingua, quindi alla comprensione, dei meccanismi che regolano il funzionamento delle imprese in Italia, che spesso sono molto diverse rispetto ai loro paesi di origine. Parliamo del vostro progetto. Allora, si chiama Future, è un progetto che è nato a livello nazionale, che ha coinvolto 15 camere di commercio, Union Camere, naturalmente, fra queste c'è anche Torino. E voi che cosa offrite, come accogliete queste persone che si rivolgono a voi per l'aiuto? Perché chiariamo l'importante che le istituzioni facciano da struttura, diciamo, ricettiva per tutte queste persone che hanno voglia di crescere in Italia. Nell'ambito del progetto Future offriamo una serie di servizi totalmente gratuiti, molto qualificati, volti all'informazione, alla formazione su ciò che vuol dire mettersi in proprio e creare un'attività di impresa in Italia, ma anche proprio servizi di accompagnamento alla redazione del business plan e di successivo mentoring, successivo all'apertura dell'attività di impresa, proprio per accompagnare l'aspirante imprenditore nel percorso difficile e complesso di realizzazione della sua idea imprenditoriale. Marta Vietti, emerge l'orgoglio di queste storie imprenditoriali, di persone che veramente hanno fatto fatica a costruire quello che hanno costruito e che quindi ancora di più si rendono conto della bellezza, della possibilità di creare qualcosa. Quanto riscontrate questi sentimenti in chi arriva da voi? Li riscontriamo sempre in ogni colloquio che facciamo con persone che vengono ai nostri uffici per avere supporto alla via di impresa. Arrivano da condizioni difficili, di povertà, spesso hanno subito violenze e abusi, quindi sono storie molto emozionanti, ma in tutti loro c'è veramente una grinta, una determinazione nel trovare un riscatto, quindi trovare condizioni di vita migliori, condizioni lavorative migliori, perché spesso, una volta arrivati qui in Italia, non riescono a inserirsi nel mercato del lavoro con condizioni che gli permettano anche di essere allo stesso livello del titolo di studio che a volte avevano conseguito nel paese di origine, quindi c'è un po' di frustrazione e il mettersi in proprio per loro è veramente un riscatto da tutto quello che hanno passato nel loro paese di origine, ecco, nelle situazioni di difficoltà. Voi offrite tanti servizi appunto dall'assistenza, insomma, di tipo, lei ha usato un termine che è il business plan, ma c'era anche un altro termine che mi ricorda un po' il tutor, come se volete, un mentoring, ecco, per cui fate tanto per loro, praticamente li accompagnate in questa crescita, ma che cosa soprattutto vi chiedono, di che cosa hanno bisogno subito? Subito di capire dove trovare le informazioni, cioè loro hanno la loro idea, ma non sanno assolutamente come realizzarla, a chi rivolgersi, dove andare, e quindi da noi trovano un orientamento, cioè seguiamo, cerchiamo una volta definita la loro idea, di capire di che cosa hanno bisogno, di quali enti, a quali enti devono rivolgersi, di quali requisiti professionali hanno bisogno, quindi cerchiamo di dargli una panoramica di quelle che sono gli step per poter avviare la loro attività di impresa. In chiusura, visto che magari molte famiglie che hanno contatti con queste persone o loro stessi ci staranno guardando, che cosa devono fare per raggiungervi? Andate sul sito della Camera di Commercio di Torino, c'è una pagina dedicata al progetto Futur e Programma Imprese Immigranti, un form di contatto, quindi possono compilarlo e richiederci un appuntamento. Grazie, allora grazie davvero Marta Vietti, Nuove Imprese e Camera di Commercio per essere stata con noi. Grazie a voi.